Grazie, grazie da Radio Studio 95. Grazie perché con voi siamo diventati i primi. Con voi abbiamo fatto tanto e ancora di più faremo. Ogni giorno il massimo, ogni giorno sempre più vicini. Grazie perché l'indice di credimento è sempre più alto, il numero d'ascolto sempre più vasto, la nostra voglia di fare meglio sempre maggiore. Radio Studio 95 per questo non vi lascerà mai. Grazie dai numeri 1. Grazie.